A Genova sono sempre di giù, eh? Sì. Boh, è sulla spiaggia. Qua ricontro la situazione. Madonna! Allora, mi senti? Sì, ora cosa vede? Eh, quelli lì, quelli lì hanno avuto un incontro. Sembrano abbastanza abituati al luogo. Sì, probabilmente sono abituati se fanno il giro, qualcuno gli vuole all'avanzare. Prende la signora che fa la venditrizia e la venditrizia. No! 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 Il mio wedding costume è uno dei posto! Grazie.